Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Un nuovo tocco di colore a Piazza Martiri con la panchina viola per far conoscere a tutti la fibromialgia, una malattia che spesso rimane invisibile sebbene invalidante. Essere un segno, una traccia forte nel cuore della nostra città, questa panchina viola, per sensibilizzare non solo le istituzioni e la politica che devono fare ancora tanto, ma tutta la comunità, tutti i cittadini, i terramali, ho un orgoglio che questa panchina venga installata, si sia installata con la collaborazione dell'Asle, delle associazioni della città di Teramo, del comune di Teramo qui in Piazza Martiri, nella nostra città, perché è assolutamente importante lanciare il messaggio di un riconoscimento istituzionale di comunità di una malattia che deve essere riconosciuta all'interno del sistema sanitario nazionale, perché non possiamo lasciare soli coloro che ne sono affetti e dopo 30 anni dal riconoscimento da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che finalmente possa essere inserita tra quelle patologie sostenute, finanziate, perché tante persone non riescono ovviamente a poter sostenere le cure che attenuino gli effetti di una malattia che non ha soltanto un riverbero ovviamente sanitario, ma anche sociale. L'Associazione Fibromialgici Libellula Libera APS ricorda che nonostante l'OMS abbia riconosciuto l'esistenza di tale malattia 30 anni fa, ancora adesso il Servizio Sanitario Nazionale non la riconosce come cronica invalidante. Io sono la rappresentante di questa associazione, però in primis sono una malata e quindi conosco tutte le problematiche, le difficoltà che si possono vivere sulla propria pelle. Quindi per noi è importante dare un segno anche per tutte le altre malate che ci siamo, che possiamo fare forza, unirci e insieme darci una mano a vicenda. L'Abruzzo è però una regione che si è mossa in tal senso, riconoscendo la malattia nelle analisi cliniche e sociali, ma si spera si possa fare ancora di più. L'Abruzzo è stato speciale tra le regioni d'Italia perché poi in poche l'hanno riconosciuta la fibromialgia in poche regioni in Italia e quindi continuiamo questo cammino.